I venti di guerra hanno ripreso a soffiare sul Mediterraneo e la situazione in Libia non lascia presagire niente di buono. Da settimane si parla di un possibile intervento internazionale per stabilizzare il paese africano nel caos dopo l'abbattimento della dittatura di Gheddafi. E l'Italia serve in prima linea con l'assunzione del comando delle operazioni. Ma nel mondo le guerre non sono mai finite. Conflitti civili come in Afghanistan e Siria, o tra stati come lo scontro tra l'Arabia Saudita e Yemen. Per dire no a tutte le guerre, i rossomori hanno deciso di mobilitarsi con una serie di manifestazioni. Sabato a Nuoro per un'intera giornata si svolgeranno una serie di eventi che accenderanno i riflettori sui conflitti e sulle vittime innocenti che generano. Il programma della giornata di sensibilizzazione contro tutte le guerre è stato presentato stamattina nel corso della conferenza stampa. Alla presenza tra gli altri di Davide Muleda, segretario provinciale dei rossomori, e di Paolo Cotto. L'appuntamento è in programma sabato mattina nei locali dell'ex mercato civico a partire alle 10. Nello spazio urbano verrà restita una mostra fotografica sui conflitti in atto. Al dibattito pubblico, dal titolo Pianeta in guerra, popoli in fuga, a chi conviene, oltre ai dirigenti locali e nazionali dei rossomori, tra gli altri interverranno la giornalista freelance norese Ilaria Biancaci e i rappresentanti di Emergency, che sono presenti con i propri ospedali e i propri medici su tutti i campi di battaglia del mondo, dando assistenza alla popolazione civile, vera vittima dei conflitti. In serata, presso l'auditorium del Museo del Costume, alle 19, andrà in scena lo spettacolo La Famiglia Puddu, di Ecompier Paolo Piludu, di Cadadie Teatro.